Una storia di infedeltà lunga secoli, quella dell'uomo che ha smesso di chiedere perdono per i propri peccati e si sente invece giudice degli altri. Durante la messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco ha messo in guardia da questa superbia che finisce per indurire i cuori, chiudendo le porte alla misericordia di Dio, che invece sempre ci cerca e ci viene incontro. Non lascia entrare la voce del Signore, che come Padre amorevole ci chiede sempre di aprirci alla sua misericordia, al suo amore. Abbiamo pregato nel Salmo tutti insieme, ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Il Signore sempre ci parla così, anche con tenerezza del Padre ci dice, ritornate a me con tutto il cuore, perché sono misericordioso e pietoso. Ma quando il cuore è duro, questo non si capisce. La misericordia di Dio soltanto si capisce se tu sei capace di aprire il tuo cuore. Perchè possa entrare.